Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Grazie di cuore. In queste ore, i vigili del fuoco di Milano sono impegnati in un intervento in via Rombon, nei pressi dello specchio del fiume Lambro, per recuperare il cadavere di un uomo. A differenza delle prime informazioni, si è appurato che si tratta del corpo di un uomo e non di una donna, come erroneamente segnalato inizialmente. Il ritrovamento è avvenuto lungo la sponda destra del fiume, in direzione della tangenziale est, nelle vicinanze di via Rombon, nella periferia di Milano. L'identità della vittima è al momento sconosciuta. Sul luogo sono intervenuti gli esperti del nucleo SAF e APS di via Benedetto Marcello, insieme alla polizia scientifica. Secondo le prime informazioni, il corpo si trovava immerso nella sponda destra del fiume, in prossimità della tangenziale est. Le operazioni di recupero sono in corso all'altezza di via Rombon, e, stando a quanto riferito da fanpage.it, sembra che il corpo ritrovato sia in uno stato avanzato di decomposizione. Tuttavia, al momento, non è ancora chiaro per quanto tempo il corpo possa essere stato nelle acque fluviali. Nei prossimi giorni, le indagini si concentreranno sulla chiarificazione delle circostanze e delle cause del decesso. Partecipa anche tu commentando il video e iscriviti al canale se vuoi restare aggiornato. A presto!